Buongiorno a tutti, io sono Dario, faccio parte della FIOM di Trieste ma sono di Monfalcone e farò un intervento molto meno politico ma volevo raccontare brevemente la storia della rete dignità e lavoro che come è stato accennato anche all'inizio di questa conferenza si è creata sul territorio della nostra provincia a partire da settembre quindi solo da qualche mese e che ha tentato diciamo così di essere un elemento di raccordo tra le varie esperienze di lotta delle moltissime fabbriche soprattutto metalmeccaniche ma non solo che in questo territorio si torna a attraversare una crisi durissima, in questo senso faccio un intervento molto meno politico ma credo che abbia senso anche raccontare le esperienze perché sono poi gli elementi di conoscenza che ci permettono anche di verificare quali sono le situazioni e di andare avanti, in particolare mi è piaciuto molto l'intervento dell'ultimo relatore perché mi ha ricordato esattamente la realtà che stiamo vivendo e quindi l'RDL è nata da uno sforzo di alcune forze politiche ma anche soprattutto insomma con la partecipazione dei lavoratori e delle rappresentanze di due importanti aziende ormai dire in crisi anche esagerato delle locali quindi la Eton con Alessandro che sono già da un anno in cassa integrazione e la Ineos che sono da due anni ormai in mobilità. Abbiamo avuto la partecipazione sporadica purtroppo di altre realtà come la Carraro, lo stesso appalto Fincantieri eccetera e quello che però abbiamo riscontrato è che quando abbiamo provato a fare delle iniziative sul territorio e quindi a incontrare quelle che sono le realtà troppo piccole per partecipare in questo politicamente a un'iniziativa o anche semplicemente la enorme massa di precari che sono stati espulsi che venivano ricordati prima e quindi siamo scesi in piazza, abbiamo fatto dei banchetti, delle cose, ci siamo accorti che le reazioni purtroppo non ci sono. Alla fine la maggioranza dei lavoratori stanno vivendo questa crisi in maniera totalmente personale, hanno introiettato una disillusione tale per cui è estremamente difficile coinvolgerli in una prospettiva di lotta. Così come, è un dato che è già emerso, ci siamo trovati anche con una opposizione non sempre velata da parte della CGL che ha qualche volta sconsigliato ai propri delegati la partecipazione a questa nostra iniziativa. Quindi è evidente che questo è un segno secondo me generale, quello che noi stiamo costruendo nelle varie realtà sono delle piccole forme di resistenza, assolutamente piccole e che però sono assolutamente indispensabili. Così come a Marghera, anche qua da noi l'alternativa in questa città appare in maniera evidentissima la barbarie. Mentre noi facciamo dei banchetti e tentiamo di rivolgersi alle centinaia e centinaia di lavoratori che sono in crisi, che probabilmente hanno pigliato i nostri volantini e non si sono voltati indietro, la Lega in una mattina raccoglie 1500 firme contro la moschea, ma che tradotto significa contro i lavoratori bengalesi, musulmani del cantiere. Questa è l'alternativa che ci si pone e questo è il compito immenso che abbiamo di fronte. Quindi io credo sia benvenuto l'iniziativa di oggi e l'appello che io faccio è quello di unificare le forze. Effettivamente la situazione è molto difficile, ma quelle poche iniziative che ci sono, come questi coordinamenti che si stanno confrontando qua oggi, devono coordinarsi, devono lavorare insieme e in qualche modo fornire attraverso un'unità territoriale più ampia a raggiungere quella credibilità che è necessaria per poi riuscire effettivamente a intercettare i lavoratori, i precari, insomma quelli che questa crisi la stanno pagando e che in questo momento evidentemente sono troppo disillusi per potersi mettere in moto. Grazie.